Allora socio io te la butto lì secca secca, piatta piatta, mi ricordo che era una battuta da un film, adesso non mi sovviene, ma ci andiamo in Cina il prossimo anno a questi benedetti mondiali? Libretto rosso e si va a trovare lo zio Zanghi. E dai, e dai. Speriamo, non è detto ancora. Non è detto, non è detto. Allora perché ovviamente stiamo dicendo questo? Innanzitutto si è giocato, appunto sono giocate le partite della nazionale, però prima di parlare della nazionale, non so se avete notato, insomma questa sera siamo griffati come si dice in gergo, vero socio? Sì, siamo tutti in tenuto a Parallelo 24, non ho ben capito perché onestamente, però. Però forse io ce l'ho la soluzione, perché dovrebbe essere vicino a me, ovvero il nostro ospite, Michele Di Pietro, che è appunto il CEO founder, usiamo questi termini adesso, uno dei fondatori di Parallelo 24. Buonasera a tutti, sì, la start-up diciamo ormai Teramo ci siamo affermati da tre anni, siamo abbastanza conosciuti e quindi ho voluto portare un omaggio appunto alla maglietta. Ringraziamo ovviamente, ringraziamo. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. Vedete che siamo ovviamente griffati e ne siamo felicissimi, tra l'altro è da dirlo molto cool, come si dice. Molto cool. Speriamo non cool. Speriamo non cooler. Cooler e qualcun altro. Comunque vi chiederete anche il perché, Michele qui intanto vedete appunto Pietro che prontamente dalla regia inquadra le maglie di Parallelo 24, perché ovviamente Michele è un appassionato, Michele sei appassionato, segui ovviamente il basket a 360 gradi. Sì, diciamo dal lontano 96-97, eravamo nel primo campionato di Serie B d'eccellenza. Ecco, quindi... Da lì che ho l'abbonamento, sistematicamente domenica sono al Palazzetto. Ah, la nostra annata. Va bene, va bene. E' una buona annata. Non entriamo troppo poi nella nostalgia a te tanto odiata. Allora, innanzitutto tra poco, tante sorprese perché abbiamo un ospite molto 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 speciale in collegamento telefonico, lo abbiamo accenato poco fa, iniziamo parlando della Nazionale Azzurra, non l'abbiamo fatto ancora nel corso della nostra trasmissione, io adesso prego Pietro dalla regia di rimandare in onda, le immagini dell'ultima partita che ha giocato l'Italia, ovvero contro la Polonia, abbiamo perso sonoramente, eccole qui le immagini, a Danzica, abbiamo vinto però l'altra partita, la partita precedente contro la Lituania e questa è una bellissima notizia perché non battevamo i Lituani da ben 12 anni. Parliamo però prima appunto della partita contro la Polonia, Jacopo non compromette nulla, forse ecco anche vedendola la partita personalmente, l'ho vista, è mancato completamente quello che invece ci ha fatto vincere contro la Lituania, ovvero l'approccio, l'aggressività, però ecco niente è compromesso ancora. Ma può esserci il rischio di essersi specchiati un po' dopo una vittoria di gran peso considerando anche che chi gioca queste qualificazioni almeno in molti casi puoi guardare il mondiale dal divano dovendoci andare, quindi ci sta che bisogna lavorare molto e in maniera particolare su questo aspetto di concentrazione e ci sta che essendo alle prime in molti casi esperienze internazionali. Tu possa perdere un po' la linea guida, detto questo come hai giustamente ricordato non compromette nulla, c'è una partita che va affrontata come è stata affrontata quella con la Lituania per un traguardo che non era per nulla scontato e che deve fare felice tutto il movimento che forse, dico forse, sta ritrovando qualcosa. E tra l'altro adesso coinvolgo anche Michele, nonostante tutto siamo andati anche sotto di sei punti, l'abbiamo visto con quella tripla pazzesca tra l'altro di Gentile con con fallo, anche qui si deve ripartire da questo soprattutto perché nonostante una partita giocata oggettivamente male e poi tra poco il nostro ospite telefonico ce lo potrà anche confermare, comunque faremo un'analisi, hai avuto la forza di tornare a meno sei quindi da quello si deve ripartire per battere poi l'Ungheria il 22 di febbraio. Certo, poi ovviamente la fisicità della Polonia, in questi casi si fa sentire, Jay Slotter ma c'è lampe, comunque gente che ecco della fisicità fa il suo forte e noi sotto canestro abbiamo avuto, comunque manca ancora qualcosa per cercare. C'è sempre questo problema diciamo anche soprattutto nel lungo, nel lungagnone diciamo. Esatto, il gergo ci piace perché è proprio quello. Allora io innanzitutto chiedo pure l'Umi dalla regia se abbiamo in collegamento il nostro ospite, intanto possiamo tranquillamente continuare comunque la nostra analisi perché lo abbiamo detto poco fa praticamente, Jacopo bisognerà battere il 22 febbraio l'Ungheria, sembra una partita scontata, in realtà non lo è, intanto compare un nome e cognome, ti chiedo appunto un flash su questo e poi chiederemo a un tale Achille Polonara che intanto ci sta ascoltando però prima dell'intervento di Jacopo. Dobbiamo, come detto, usare l'approccio giusto perché questo tipo di partite dove sei oggettivamente favorito vanno ammazzate sin da subito e va fatto facendo capire dal primo minuto che approccio si vuole avere alla partita, che intenzioni si hanno e anche che fisicità si vuole mettere in campo perché l'Ungheria su questo può contare e per quanto riguarda poi ripeto l'essere favoriti lo si era anche con la Polonia, il primo match point è andato quindi evitiamo di fare disastri. Allora, abbiamo visto che insomma è comparso un nome e cognome che molti dovrebbero conoscere prima l'avete visto in sovrimpressione, abbiamo praticamente in collegamento telefonico Achille Polonara, ex del Teramo Basket, attualmente gioca con la Dinamo Sassere e soprattutto giocatore della Nazionale Azzurra. Ciao Achille, benvenuto. Buonasera a tutti, ho piacere. Allora, buonasera a te Achille, innanzitutto io partirei da un'analisi tua, tra poco vedremo anche le immagini della bella vittoria contro la Lituania, comunque Achille fammi una sorta di bilancio di queste due partite, appunto una vittoria bella contro la Lituania, un passo indietro invece in Polonia. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita contro la Lituania, sapevamo comunque che sarebbe stata una partita difficilissima perché comunque la Lituania non aveva mai perso dall'anno scorso, quindi era una grande squadra, poi se vogliamo anche era la nostra bestia nera perché erano tantissimi anni che non la battevamo e niente, eravamo super motivati, super carichi, abbiamo fatto un'ottima partita e diciamo quindi è andata molto bene contro la Lituania, è andata meno bene in Polonia purtroppo, forse abbiamo avuto un approccio troppo soft, abbiamo concesso troppi canessi facili a loro, soprattutto nel primo quarto, in cui hanno segnato 31 punti e niente, poi hanno preso fiducia, comunque hanno fatto anche canessi molto difficili, però diciamo abbiamo avuto sicuramente un approccio diverso contro la Polonia e l'abbiamo pagato, siamo stati sempre a rincorrere dall'inizio e poi niente, alla fine sono stati bravi loro a non mollare mai e hanno portato a casa la vittoria. Jacopo. Ciao Achille, ben risentito. Ciao. Ascolta, qual è l'importanza per voi di avere in panchina Coach Meo, perché insomma la sua impronta si è sentita molto in Serie A, perché mi sento di dire che dopo la Siena di Pianigiani siete stati forse l'ultima squadra a vincere avendo un basket veramente definito che poi passa alla storia come un sistema di gioco e state cominciando a vedere questo in Serie A, in Nazionale? Sì, sicuramente Meo è un grandissimo allenatore, è un allenatore di grande esperienza, ha fatto molto bene ovunque, aveva allenato da Sassari adesso a Cremona, comunque sta facendo un ottimo campionato, anche in Nazionale comunque i risultati alla fine si stanno vedendo, perché comunque lui sa trasmettere quella tranquillità, quella fiducia a ogni giocatore e niente, quindi ci sentiamo tutti tranquilli quando andiamo in campo, non abbiamo paura di sbagliare, giochiamo proprio tranquilli, con la mente libera, il nostro basket che per carità a volte sarà pure un basket forse troppo corri e tira, però a volte è efficace. Ricordiamo che forse sono stato un po' indelicato da tirare fuori questo ricordo d'Achille perché lui era con quella Reggio Emilia che la finale con Sassari l'ha perso. Sì, ma non ti preoccupare che questo ricordo non me l'hai tirato fuori tu, perché tuttora ci penso ogni giorno a quella serie playoff, quindi non ti preoccupare. Vabbè fai ancora in tempo, ora Michele ha una domanda. Tra l'altro coinvolgiamo Michele, io prego dalla Reggio a Pietro di mandare in onda, Achille ovviamente non può vederla, però Achille abbiamo preparato una clip, perché non si può non parlare del tuo passato a Teramo, che è praticamente la città che ti ha formato, ti ha fatto crescere, quindi poi passo la parola appunto a Michele che ti ha visto in tantissime partite. Esatto, vai Michele. Ciao Achille, parlando tra di noi prima stiamo ricordando un po' il periodo che fu, volevamo sapere il momento migliore a Teramo e a noi sono tornati in mente i 34 punti contro Montegrana. Che stiamo vedendo, esatto, che stiamo proprio vedendo Achille, stiamo vedendo presente il tuo carerai a Teramo appunto contro Montegranaro. Quando ero un ragazzino ancora, senza parco, senza tatuaggio. Trampolino, sì. Esatto. No, sì, diciamo che il ricordo più positivo che ho sicuramente è quella partita, perché tuttora rimane la mia miglior partita da quando gioco in Serie A, quindi quella partita penso che farò molta fatica a dimenticarla. Io ho passato 5 anni a Teramo, 3 anni a sudore giovanile, 2 anni in prima squadra, veramente fantastici. Mi sono trovato bene con i tifosi, con la città, con la società, comunque mi hanno sempre accolto come fossi un, tra virgolette, un figlioccio. Quindi non posso solo che dire grazie a Teramo, grazie a tutti quelli che hanno studiato in me e mi dispiace molto comunque che non militi più in Serie A, perché comunque è una piazza in cui si mangia pane e basket, in cui l'entusiasmo sicuramente non manca e spero vivamente che i prossimi anni magari ci sia qualcuno che possa rilanciare Teramo ai massimi livelli, perché comunque è una piazza che merita il basket di alto livello. Ovviamente lo speriamo tutti noi. Achille, guarda, io vorrei chiudere chiedendoti, appunto, ritornando alla nazionale, è una domanda scontata, però voglio sentire anche la tua opinione. Ovviamente bisogna assolutamente battere l'Ungheria, cioè evitiamo ovviamente di andare lì, perché poi appunto bisogna andare in Lituania, è l'ultima spiaggia, però ecco giocarsela con i lituani in casa loro, insomma dobbiamo battere gli ungheresi a tutti i costi, sei d'accordo ovviamente? Ma sicuramente sono d'accordo e sulla carta può sembrare una partita facile, ma non lo sarà, perché comunque sia hanno vinto con l'Olanda e ancora si giocano tutto anche loro, quindi verranno in Italia sicuramente per fare una gran partita e per provare a strappare i due punti, però penso che la partita con la Polonia ci sia servita per capire che dobbiamo andare in campo a prescindere da chi sia l'avversario, sempre con il coltello tra i denti, dal primo secondo fino all'ultimo secondo per non rischiare niente, perché comunque come dicevate voi eravamo forse anche favoriti con la Polonia, però alla fine hanno dimostrato e hanno meritato la vittoria, quindi niente, dobbiamo partire subito forte, non dobbiamo dare fiducia agli avversari e giocare tranquilli senza pressione, perché comunque sia, giochiamo in casa, quindi il pubblico sicuramente sarà dalla nostra parte e niente, dopo una volta qualificati possiamo andare tranquilli in Lituania, però innanzitutto ci qualifichiamo con lucheria e poi poi pensiamo alla Lituania. Achille, grazie mille davvero, in bocca al lupo, a te ovviamente è anche un grande in bocca al lupo alla nazionale, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi Crepi il lupo, buona serata. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Grazie, grazie ad Achille, comunque a rivedere insomma Polonara che... Hai visto un assisto a Milos Borisov? Hai visto Borisov? Lui l'onorava, io no, lui l'onorava. Milos, sì sì, un po' spaccava il pubblico. Sì, sì, era molto slavo in questo. Io, allora poi chiudiamo diciamo il discorso Polonara eccetera, veramente, dovevo rimpianto e non aver visto poi Achille in maglia a Teramo perché lì stava proprio sbocciando, se fossero rimasti in Serie A veramente ci avrebbe fatto divertire. Sarebbe stata la più bella storia di non essere messa da scritto. Concordo, concordo. Allora, torniamo adesso dopo questa parentesi per parlare con la Nazionale Azzurra, con Achille della Nazionale, con Achille Polonara. Riprendiamo il discorso per quanto riguarda il basket che si è giocato nel fine settimana appena trascorso per quanto riguarda appunto le squadre Teramane, la Serie A2 e la Serie B. Partiamo, come da rito, con la Serie A2 andando a vedere risultati e classifica per quanto riguarda il Gironest. Si giocava qui la decima giornata. Ci sono state appunto, ci sono delle partite che devono essere recuperate, che non si sono giocate per gli impegni, tra l'altro di alcuni giocatori proprio nelle qualificazioni dei mondiali. Apro e chiudo parentesi. E chi l'avrebbe mai detto che saltavano tre partite della 2? Però ci piace anche questo. Allora, innanzitutto, vittoria di Roseto, quello che ci interessa, bella vittoria degli Sharks contro Ravenna 91-80. Non inganni il punteggio perché il divario è stato anche più cospicuo, quindi davvero un'ottima prestazione da parte dei ragazzi di coach d'Arcangeli. La fortitudo che incappa nella prima sconfitta stagionale che appunto perde a Piacenza Sponda Bakery. La classifica quindi dopo la decima giornata. la fortitudo che resta comunque sempre prima a quota 18. Poi via via vedete appunto tutte le altre formazioni. Roseto che riaggancia praticamente Mantua e Iesi. Allora, prima di entrare nelle valutazioni, nel fare un'analisi di quella che è stata la vittoria degli Sharks contro Ravenna, andiamo a vedere il servizio praticamente che ci spiega, ci fa un po' il punto della situazione della partita e poi torniamo in studio. Il Roseto torna a sorridere, il sorriso simbolico per eccellenza è quello a fine partita dell'MVP Nicola Achele. 34 punti con 13 su 19 dal campo, conditi da 13 rimbalzi e 2 assist per un totale di 40 di valutazione complessiva. Una prestazione letteralmente spaventosa per il Colored Biancazzurro che ha inciso in maniera decisiva sulla bella vittoria contro Ravenna con il punteggio finale di 90 ad 81. Non solo è una vittoria fondamentale per i due punti in classifica e perché interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, ma è fondamentale per il modo in cui è stata ottenuta, dominando il match dall'inizio alla fine e controllando anche i tentativi di rimonta dei romagnoli. L'avversario infatti non era dei più semplici da affrontare, con l'amato ex Adam Smith che inconsciamente ha dato una mano agli Sharks, grazie ad una giornata sì da 26 punti ma con percentuali bassissime dal campo, vedi il 6 su 20 complessivo. Determinante l'approccio che i ragazzi di coach d'Arcangeli hanno avuto sulla partita, con un primo quarto di Achele da consegnare ai posteri. L'ex Rhode Island ha segnato la bellezza di 15 punti nel solo primo parziale, annientando chiunque li separato davanti, cancellando i vari Masciadri e Gandini in difesa, ma soprattutto portando avanti i suoi già sulla doppia cifra di vantaggio. 19-4 dopo una sua tripla, 26-6 massimo vantaggio, sempre dopo una sua giocata. Da lì la gioventù Rosetana ha ovviamente preso entusiasmo ed energia, componenti fondamentali per costruire un margine di sicurezza e conservarlo fino al termine, avendo anche la giusta freddezza mentale nel contenere i rientri degli ospiti. Analizzando le statistiche, gli Sharks a fine partita hanno tirato con il 51% da 2, il 53% da 3, arpionando 37 rimbalzi e smazzando 16 assist. Una prestazione positiva su tutti i fronti, che di fatto ha riconciliato anche il rapporto con la piazza e con i tifosi, sempre presenti ad incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto. Il Roseto adesso può e deve ripartire da questa vittoria. La classifica vede sempre gli squali nelle secche della zona bassa, ma con queste prestazioni il futuro appare decisamente più luminoso. Prossimo match, domenica in trasferta a Piacenza, sponda Assi Geco contro un altro ex, Andy Ogide. Allora, questo era il servizio, abbiamo dato varie chiavi di lettura, soprattutto una descrizione della partita. Jacopo, io partirei da una riflessione, la facevamo anche adesso, proprio poco fa, mentre guardavamo il servizio. Se dopo il periodo, le tre sconfitte consecutive, la piazza che ti ha posto l'ultimatum, soprattutto i tifosi, eccetera, 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 quello che abbiamo sempre detto, fare una prestazione del genere, secondo me hai tanto dentro. Poi sentiremo anche Achele che confermerà questa nostra teoria, però insomma, lo diciamo anche nel precampionato. Roseto, secondo me, è una squadra che se poi prende fiducia può dar fastidio. È una squadra di rubio talento, di grande capacità di tiro e soprattutto di grande atletismo e questo non lo scopriamo certo adesso. Ciò che bisogna distinguere è la mancanza di esperienza dalla mancanza di cuore, dalla mancanza di uomini veri spogliatoi e questo non l'abbiamo mai detto perché ovviamente non è così. Il risultato contro una squadra, penso insomma, consolidata per fare i playoff come Ravenna e il ritorno sicuramente molto sentimentale, visto la partita che ha messo su di Adam Smith che ha provato a fare la classica partita dell'ex americano, però tirando con percentuali non da lui, comunque possono consacrare Roseto in un nuovo periodo positivo che può aprirsi con la spinta morale che ti arriva da una vittoria così pesante e così difficile da ottenere e forse con un nuovo leader vedremo se saprà confermarsi. Michele, Jacopo pure qui ha dato tante chiavi di lettura perché Achele ha fatto una bellissima partita, effettivamente a Roseto manca adesso la figura, forse è l'unica cosa che manca nel senso che si deve definire un leader, deve uscire fuori un leader. Quello però, per cui appunto, quello che ti voglio chiedere è anche un'altra osservazione che è la prima vittima illustre, cioè Roseto fino adesso aveva battuto Iesi che era senso americano, Cagliari che oggettivamente è la squadra meno forte fin qui del girone, vedremo ovviamente se poi nel mercato correrà i pari, però ecco, vittima più che illustre l'allenatore Mazzon, c'era Smith, insomma è battuto una signora squadra. Sì, sì, assolutamente, Ravenna poi anche con Montano, Gandini, insomma una squadra molto quadrata che gioca a basket, vero. E vabbè Roseto ovviamente stava un po' spalle al muro, un primo quarto diciamo con tanti tanti attributi, è andata subito più 20, poi da lì appunto ha saputo gestire bene con Achele, è venuto ecco da... è venuto su molto bene, anche lui ex nazionale sperimentale, è venuto da dire anche da un altro pianeta per la partita che ha fatto, perché è spaziale. Da Rhode Island, quindi dovrebbe anche essere un altro pianeta, però sì, comunque veniva anche lui da un'azione sperimentale in estate. Esatto, specificiamo. Sta andando benissimo. Diciamo Roseto poi comunque con il mix anche di esperienza, Bushati, la panchina, comunque ha fatto una partita solida, andrà spesso in lunetta, Pieric comunque è sempre un giocatore molto quadrato e quindi comunque Roseto sicuro, sicuro uscirà, uscirà anche perché la squadra c'è ed è lunga, l'atletismo appunto come ha detto Jacopo, quindi non penso avrà problemi né a salvarsi e secondo me potrebbe andare anche a cercare qualcosa di più. Allora andiamo appunto, rientriamo in studio perché adesso andiamo proprio a sentire le le dichiarazioni post partita dell'MVP Nicola Achele che è stato letteralmente appunto on fire come si dice negli Stati Uniti, cioè ha messo di tutto, ha realizzato di tutto, un primo quarto da ben 15 punti. Sentiamo le dichiarazioni di Achele e poi andiamo direttamente in fascia pubblicitaria e ci rivediamo tra pochissimo qui a Super Basket. Ho un po' tanti canessi però è tutto merito della squadra, non voglio dire che è stato merito mio, è stato merito della squadra, questa vittoria corale e assolutamente avevamo una energia dall'inizio fino alla fine ovviamente abbiamo avuto qualche calo nel secondo tempo ma alla fine diciamo che spero che abbiamo imparato dalle altre partite e ci siamo rialzati, abbiamo fatto dei canestri importanti che ci hanno un po' fatto risalire, abbiamo fatto delle difese, abbiamo preso gli imbalzi e siamo riusciti a portare questa partita che in mente io dobbiamo vincere, in modo nell'alto di uno, di trenta, rubandola, dobbiamo vincere questa partita. Sì sicuramente dovremmo avere più punti di quello che avremmo ma un po' l'inesperienza alla fine qui in questo campionato nessuno ti regala niente, giochi meglio degli altri ma non vuol dire niente, al fine abbiamo un po' pagato l'inesperienza ma partita dopo partita ovviamente l'esperienza aumenta quindi penso che da questo momento in poi ce la faremo a gestire meglio i finali della partita e a stare concentrati il più lungo possibile. Bene, rieccoci di nuovo qui a Super Basket, allora ci dicono dalla regia il buon Pietro che abbiamo dei messaggi, insomma ne arrivano tanti e ringraziamo ovviamente voi che ci seguite da casa, ricordiamolo siete sempre voi che fate soprattutto la trasmissione che ci date, che ci ispirate, poi qua leggiamo anche messaggi che sono, non lo so, in zona proibita, socio, fascia protezione. Ma pare che siano oltre i 24, vediamo. Come il tiro di chi? Diciamo. Chi è che hai discusso con Flavio Tranquillo tu? Ah, Michael. Il tiro di Michael. Il tiro di Michael. Il tapin quando prende. Ah, attenzione, attenzione. Allora vediamo quindi se ci sono anche i messaggi nel frattempo che Pietro comunque li manda in onda, io volevo chiedere un flash a Jacopo per quanto riguarda Achele perché Achele, dobbiamo dirlo, lo specifichiamo, un giocatore italiano a tutti gli effetti non solo, fa parte anche della nazionale sperimentale, quindi è nel giro della nazionale, insomma se le prospettive anche sono queste, visto che, lo dicevamo anche a microfoni spenti, un lungo, un giocatore atletico, insomma anche tecnico perché poi è anche bravo a livello di tiro per il futuro della nostra nazionale. Speriamo che sia il lungagnone di cui parlavamo, l'idea sarebbe quella, voi insomma il giocatore l'ha spiegato, l'avete spiegato tu e Michele, viene da Rhode Island quindi ha una formazione importante e lì ha fatto il 5, di conseguenza immagino che abbia anche una tendenza fisica a giocarsela con gente di una certa caratura e poi questa modernità che dimostra nel tirare da tre, queste leve enormi non possono che aiutare, speriamo che venga su bene, l'ambiente mi sembra quello giusto. Roseto sicuramente può formare, allora vediamo qui, una considerazione per il doc, Mattiette lo può non armi, tengo Nicola Chele. Questo è il nostro amico da Roseto Mazz sicuramente. Che salutiamo. Che salutiamo di cuore e poi la cheat del vatecaressa senza che sto qui a spiegarvela. Esatto, un commento su Cobi che santifica la cultura circense di Los Angeles con la sua ultima intervista e su Novi Lakers dello Showtime alla loro fedi Lebron, è vero, è vero, grazie a te. Io amo Nicolò Di Eugenio, lo urlo qui faccio outing in diretta al Superbasket. Esatto, Cobi ha lanciato una bella frecciatina. Ha messa sul solito noccioline casino di Los Angeles. A morso il mamba. A morso. Sto aizzando un po'. Il morso del mamba. Vabbè, io lo trovo abbastanza pretestuoso perché non mi sembra che sia nella situazione migliore del mondo e che qualche problemino lo abbiano con questo Lebron accentratore ma soprattutto con che è intorno. Non faccio il nome della bandierina di Venice Beach, Brandon Ingram. Vediamo se mi saprà smentire. Lascierei però la risposta a Michele in questo senso. Lasciamo la risposta al Lakers, insomma. Il Lakers? Vabbè, adesso abbiamo l'accentratore che comunque ci fa vincere le partite. Quindi nel bene e nel male ce lo teniamo. La notizia secondo me? È molto più ottimista che io coloro. No, vabbè, diciamo che nasconde i problemi che abbiamo. No, comunque vinciamo. La notizia secondo me di quest'anno è che si è tornati a parlare dei Lakers. Finalmente. Cioè non se ne era più parlato. C'erano anni in cui Wesley Johnson potrebbe essere una speranza. Ecco. Finalmente forse può essere quello, quando dicevamo anche il leader, eccetera, che deve emergere. Siete d'accordo anche su questo? Potrebbe avere senso. Anche perché è il reparto che fondamentalmente sta facendo un po' più di fatica. Potrebbe avere senso. D'altronde sotto sono messi bene e a tirare in transizione ci siamo. Quindi forse un po' più di ritmo, un po' più di capacità di gestione. È quello che manca in questo momento. Vanno ancora un po' a singhiozzo i due play di coach d'Arcangeli. Ripetiamo però io appunto resto dell'avviso che Roseto davvero può fare un ottimo campionato se prende fiducia. Buonasera, vittoria fondamentale, ora ci vorrebbe un po' di continuità. A mio avviso non so se riescono a sfruttare le qualità di Sherrod. Non si vede un pick and roll, quindi o Urgeon Play o il coach dovrebbe delle spiegazioni. Anche qui la risposta... Osservazioni condivisibili. Esatto, condivisibili. La risposta quasi nella domanda, cioè torniamo sempre al punto di prima. Servirebbe forse un play più, come dire, più leader, più metronomo in questo caso, anche Michele. Sì, sì, assolutamente. Poi sì, le qualità di Sherrod in dubbio, soprattutto nel tagliare l'area con i suoi pick and roll. Sì, mi vengono in mente i pick and roll che faceva appunto con Fulz e Adam Smith. Ecco, lì andava sempre, quasi sempre in doppia doppia, quindi sarebbe da sfruttare meglio. In effetti, in quel reparto, ultimamente, Roseto, paradossalmente, è stato abituato anche troppo bene. Sì, sicuramente. Adesso sta facendo benissimo tra l'altro a Imola. La domanda per il dottore, ovviamente, per Jacopo. Ma se Roseto ha bisogno di esperienza perché non provano a impostare una trade per arrivare al veteranissimo Jimmy Butler, ero mai in fase calante di carriera da tale età. Per chi non lo sapesse, Jimmy Butler, fortissimo giocatore di NBA. Doc? All'è la risposta a queste illazioni? E' gente molto faziosa che illade, con preoccupante continuità, la quale piace Alexei Shved. Quindi, non penso servire. Shved è buono. Eccolo lì. Tra lei che si capiscono, il suo amico Simone. Shved, tra l'altro Shved è il giocatore russo del Kim Ki, il russo meno russo della storia, io dico, fisicamente, vedendolo. Molto più russo di lui Teodosic, molto più barocco, faccio e distrungo. Bravo, bravo, esatto. Allora, se non ci sono altri messaggi, possiamo proseguire. Ci sono qua, Doc, rifatti le freccine, no, le freccine addirittura. Sì, erano le treccine Teodosic. Ok. Posso immaginare da dove venga questo, succederà, arriveranno, torneranno. Ma chi l'ha invitato, Michele Di Pietro, ecco. Ma è la sua responsabilità di questo tragico errore. Questo del Doc. Eh, ragazzi, quindi la risposta ce l'avete. Stasera è una puntata molto gin tonic. Sì, sì, materiale per lo speciale notalizzo. Per rimanere in tempo. Non siamo senza giacca, quasi ci possiamo stare, senza giacca, però il gin tonic continua sempre. Quindi aspettatevi, vi ricordiamo lo speciale di Natale con tutti questi spezzoni presi. Sì, sì. Allora, andando avanti nella trasmissione, vediamo il prossimo turno con l'aiuto della grafica. Quindi si giocherà l'undicesima giornata, sempre della Serie A2, poi andiamo a parlare della Serie B. Però vediamo prima l'undicesima giornata. Roseto che va a Piacenza, Sponda, Assigieco. Insomma, anche qui Jacopo, come sempre, il refreno è sempre lo stesso. Nessuna partita è facile. Però, ecco, aver battuto in questo modo una squadra forte come Ravenna deve per forza dare fiducia in questo momento. Quello che diceva anche il telespettatore prima, ci vuole continuità. Dicevamo che, tanto, qualche mese fa dicevamo che Roseto non doveva avere paura di nessuno, tanto meno. Dopo una vittoria del genere, sicuramente una trasferta molto, molto complessa per tanti aspetti. Ma non bisogna partire sconfitti e penso che comunque puoi andare lì con un'altra serenità. Staremo a vedere, ovviamente, in bocca al lupo, agli Sharks. Allora, adesso, prima di passare alla Serie B, andiamo a vedere gli highlights, quindi la top ten per quanto riguarda la decima giornata del Gironest di A2, e poi scendiamo di categoria e parliamo di Serie B. A tra poco. Quindi ancora Marquis Green. 5 secondi, 4 secondi. Batte Lule. Trovate, trovate. Passato schiacciato per Rosamioni. Metto le gambe. E la becca ritrova il più otto. Suon prova a studiare l'avversario dal palleggio ancora. Sguscia via Suon, Cristallo e Canestro. Pedersini che si prende il tiro. Bella costruzione della Beccari e tira sulla sirena. Cicciarini schiaccia per Rosselli che va con la dima. Vincente Bucarelli dall'altra parte col passo di crocio. Gran scarico la schiacciata di Justin Johnson. Girona Girona Girona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. segna però il libero aggiuntivo il rimbalzo ancora Mantua alle iope schiacciata del numero 5 e boss Spanghero ha eseguito la rimessa verso Travis Simpson il pallone ancora per Spanghero il tiro da 3 punti di Spanghero dentro fa segno l'arbitro da 3 punti per la parità a 86 incredibile bene questi erano gli highlights la top 10 del Girones della Serie 2 allora adesso scendiamo in Serie B andiamo a vedere quello che è successo nel Girones C anche qui si giocava la decima giornata grazie Pietro che ci manda in onda risultati e poi la classifica allora ovviamente quello che ci interessa innanzitutto è il risultato negativo purtroppo dell'Adriatica pre-Steramo che perde sonoramente contro Nardò fuori casa 87 a 61 si giocava il derby al Palaborgognoni tra Campi e Unibasket Pescara hanno vinto i ragazzi di coach Stefano Arraiola 68 ad 83 risultati a sorpresa e ce n'è uno ovvero Porto Sant'Elpidio che batte Bisceglie 69 a 63 con 13 punti di Antonio Serroni ex Campi giocatore Terramano che adesso gioca appunto nel Porto Sant'Elpidio di fatto elemento chiave per la vittoria dei marchigiani contro Bisceglie il giugno nuovo osservava un turno di riposo Sansevero che vince a fatica contro Senigallia così come Chieti contro Catanzaro torna a vincere anche il Civitanova di Coach Millina che salva di fatto la panchina vince a Corato vediamo quindi la classifica dopo la decima giornata comanda sempre Sansevero che mette la nona sinfonia in questo caso la nona sinfonia dei pugliesi quota 18 Pescara la quinta vittoria consecutiva e questo è un risultato davvero incredibile contando che i pescaresi hanno giocato sei trasferte su nove incontri fin qui scusate su dieci incontri quindi davvero tanta roba poi via via tutte le altre il Teramo è fermo a quota 4 Porto Sant'Empidio stacca appunto sia Teramo che Catanzaro va a quota 6 Campi chiude a meno 4 allora prima di entrare nel merito per analizzare soprattutto la partita dell'Adriatica pre-Teramo andiamo a vedere il servizio realizzato da Jacopo e poi rientriamo qui in studio un'altra trasferta in cui la partita dura due quarti una caratteristica pericolosa se dovesse diventare un'abitudine soprattutto quando non si va a casa di una contender certo si era detto che la classifica era quantomeno bugiarda nei confronti dei tori di Nardò i quali contano sull'esperienza di Vicentin e il talento di Bonfiglio per menzionare due di quelli che hanno fatto male all'Adriatica pre-Teramo nella sconfitta per 9-7-6-1 patita domenica in Salento da considerare anche la mancanza di Marchetti che ha giocato sul dolore contro Giulianova per un problema alla caviglia e che lo staff ha deciso di non rischiare promuovendo Costa in quintetto ciò però non basta a giustificare coi vuoti tanto temuti da Coach Domizioli che nelle ultime uscite si era riusciti parzialmente a limitare Marsini si è fatto sentire al rimbalzo a prescindere dal tabellino la percentuale di canestri assistiti fa pensare che un'ità di sistema per quanto è molto embrionale possa esserci mentre finora l'apporto di Checovic non è sufficiente per parlare di rotazione ampliata nel secondo periodo i biancorossi hanno sofferto un parziale di 13-0 ed è qui che bisogna lavorare senza mai essere capaci di rientrare in partita restando a secco per ben 5 minuti risalire la china dopo batoste di questa misura specialmente lontano da Scapriano è fondamentalmente impossibile che il problema principale di questa squadra fosse la continuità anche e soprattutto sui 40 minuti non si scopre adesso ed ora il calendario diventa particolarmente ostico Sansevero in casa poi la trasferta nella cività nuova di Millina e di nuovo al Palasca per il derby contro Chieti la prima attenzione dovrà essere quella di non farsi prendere dagli allarmismi anche perché arrivati a dicembre i play out non devono più essere visti come uno spettro come accadeva negli altri anni ma come una realistica possibilità da affrontare con la consapevolezza di potersela giocare nonostante la vittoria di Porto Sant'Elpidio subisceglie Allora Jacopo ha fatto un'analisi e come sempre ci ha dato tantissimi temi partirei proprio da te socio la mia considerazione è questa nel senso che dopo la bella vittoria contro Giulianova che è stata una vittoria soprattutto mentale e tu anche nel servizio hai detto anche il discorso della continuità che è soprattutto un discorso soprattutto psicologico personalmente ecco mi aspettavo una partita completamente diversa dal punto di vista proprio della diciamo della mentalità della concentrazione perché ecco cinque minuti di blackout otto possessi consecutivi buttati via dopo la partita con Giulianova effettivamente lasciano un po' perplessi fermo restando che come giustamente detto tu la classifica di Nardò traeva in inganno perché Nardò non è di quelle diciamo non è di quelle zone però non è neanche appunto in primissima fascia Quello che hai ricordato per Plime non poco ma lo sapevamo sapevamo che la continuità era il vero problema di questa squadra che può aver risolto il primo difetto impediva una possibilità di vittoria che era quello di prendere la metà dei rimbalzi degli avversari su questo più o meno è stato posto rimedio ma ovviamente non basta un centro per risollevare una squadra alla quale manca una è mancata perché ovviamente non c'era Marchetti una guida offensiva primaria ma che deve ancora trovarsi dal punto di vista la difesa individuale questo resta un busillisi di difficile soluzione per coach Donizzioli in quanto sappiamo abbiamo ripetuto più volte che ci si deve assolutamente basare sulla transizione basare sui tanti possessi a corso a costo di sbagliarne qualcuno ma di sfiancare soprattutto quelle tante squadre molto lunghe molto esperte che solo così puoi mettere in difficoltà però come sapete voi meglio di me se prendi 90 punti 80 punti a partita di transizione puoi averne poca e poi non è un difetto ma più che altro una scommessa fino alla persa che speriamo possa invertire la direzione se a gioco rotto poi non sei in grado di fatturare con continuità è una scelta che è stata fatta in estate che per il momento non sta pagando speriamo che possa invertirsi tra l'altro Michele un altro tema che Jacopo ha introdotto soprattutto nella fine del servizio l'avete sentito anche voi da casa è il fatto di appunto che fondamentalmente lui ha detto entriamo già nella forza ventis senza creare allarmismi che ci andiamo a giocare al 90% la salvezza ai play out però appunto lui l'ha detto non in modo senza creare appunto la frenesia ma accettare quasi a livello come dire in modo zen quasi giapponese dire io a livello filosofico di dire signori al 90% facciamo i play out uno si prepara in quella forma ventis e lavori tra virgolette per quello ovviamente lavori per evitarli però sapendo che con la possibilità di sì sì ovvio sì diciamo visto il calendario anche delle prossime tre partite probabilmente arriveremo a fare non so speriamo ecco qualcosa di buono se non subito con senso è vero già Civitanova comunque Chieti in casa che ce la possiamo almeno alquanto giocare una Chieti sempre un po' in fase di rodaggio un po' che ha appena cambiato allenatore quindi ancora deve diciamo tra virgolette partire il vero campionato di Chieti quindi forse abbiamo ancora tempo di beccarla nella fase diciamo ecco di salita poi comunque avremo Campli dove appunto lì ci giocheremo veramente quasi tutto e fare due punti obbligatori e comunque sì la squadra è ovvio con l'innesto di Marsili e di Chekowicz secondo me con il passare del tempo inizia ecco a prendere sempre più confidenza e comunque un'amalgama sempre migliore quindi col recupero si spera appunto di Marchetti riusciremo sicuro come dice Jacopo a fare più transizione soprattutto con le capacità che hanno appunto i vari costa e Marchetti nel pressare tutto campo i play avversari sperando di chiudere l'area appunto oltre che con il sedo Pavicevic anche con Marsili e Chekowicz potrebbero dare quell'aiuto come lunghi sono lunghi lì lungagnone in cui adesso arrivare quindi adesso c'è sì farmo sperare che è ovvio che ti permette anche di avere il play più aggressivo nelle prime fasi di gioco in modo che poi hai il lungo dietro in aiuto cosa che è un po' mancata comunque importante anche la crescita di Aromando con crash diciamo ormai è quasi uno tra l'altro dei più continui a livello di cifre tant'è vero vedevo appunto che tra i top ten come marcatore e top 5 rimbalzista ormai va qua anzi il secondo il secondo 9,6 rimbalzi media costantemente in doppia doppia nota positiva assolutamente per la prima volta non siamo andati anzi forse sotto al rimbalzo di uno mi sembra comunque c'è qualcosa dove appunto c'è dove far far leva ovvio dobbiamo sperare quello senz'altro andare al palazzetto a sostenere la squadra che merita ecco anche in ottica play out che a memoria mi ricordo appunto voglio fare il nostalgico un Teramo Gorizia bravissimo contro Tonut esatto e noi con Bonaccorso e Vincenzo Martina comunque ci salvamo insomma io mi ricordo due play out del Teramo attenzione non solo ci salvamo ma da lì poi partì partì la scalata sì perché poi l'anno dopo vincemmo sì quindi insomma nulla è non è una situazione appunto disperata eccetera però bisogna rimboccarci le maniche e soprattutto lavorare lavorare tanto che appunto Marsili comunque è un buon giocatore insomma c'è ci sono vari insomma c'è tanta fiducia materiale ce n'è materiale ce n'è io quello che anche qui mentre parlava Michele ha dato assist involontari sul fatto del cosiddetto gioco in transizione non la passa mai chi è? tu non sei un gran passato ma io tiravo e basta poi sbagliavo no il discorso è questo che volevo anche volevo coinvolgere ovviamente Jacopo sul fatto del gioco perché ti ricordi anche quest'estate si era parlato tantissimo una squadra che deve far transizione una squadra che deve correre una squadra che deve sfiancare quindi ritmo alto si tira subito eccetera eccetera tutto si sta vedendo tranne che questo cioè nel senso siamo in una situazione maledetto tu stesso prima poi l'hai accennato un attimo questo discorso il fatto che appunto in realtà si è naturato completamente quello che era il piano principale che doveva essere questa squadra ovvero corriamo siamo giovani abbiamo fiato gli altri paradossalmente tra virgolette li sfianchiamo però poi in realtà si vede cioè non si vede questo poi andando a vedere le partite fisicamente cioè vedendole poi con occhi questa è stata una delle poche informazioni questa che dicevi del tipo di squadra a livello di ritmo che abbiamo avuto quest'estate perché poi sulle scelte sulle ragioni che le hanno portate a fare sul budget e su altri aspetti del basket estivo non abbiamo avuto nulla perché poi cominciamo anche a fare questo tipo di discorso se mi si viene a spiegare da subito che è una stagione di ripartenza che è un anno zero che sia un progetto a lungo termine che si hanno delle vicissitudini economiche per cui bisogna abbassare un po' il tiro uno lo accetta e va al palazzetto per lottare per una salvezza per una terza serie nazionale che per dirla tutta ci sta anche benissimo quindi nessuno mi lanta di voler tornare dove siamo stati speriamo che succeda ma insomma la terza serie nazionale ci va anche troppo bene però diciamo che insomma non era pronosticabile ad agosto trovarsi quasi sicuramente a fare i play out perché non ci è stata comunicata nessuna riduzione del budget anzi ci è stato presentato uno sponsor quindi ci aspettavamo almeno una stagione sul livello degli anni scorsi e questo per ragioni che ci restano sconosciute non è successo ma vista l'assunzione di un direttore sportivo a novembre possiamo anche immaginarle e ovviamente poi appunto anche qui ci sarà anche da lavorare per il nuovo DS che già tra l'altro lo sta facendo una settimana c'è una porta di due purtroppo non è riuscito a portarci durante ma lì penso che fosse più un problema di portafoglio che di altro anzi sicuramente perché poi lui voleva venire come dire come tutte le cose poi alla fine contano i danari il danaro per quanto lui veramente c'è una mano enorme certo tra l'altro andando a vedere adesso il prossimo turno ma lo abbiamo sentito nel servizio lo abbiamo anche accennato poco fa Michele quindi con l'aiuto della grafica andiamo a vedere l'undicesima giornata questa volta arriva al Palasca appunto la capolista Sansevero l'ho detto e ripetuto e lo dico anche a microfoni aperti quella quella speranza io ho la mia speranza personale che possiamo battere insomma che il Teramo possa battere Sansevero è che Sansevero ha vinto con Senigallia perché la trovi diciamo già sazia possiamo trovare i pugliesi già sazi dopo nove vittorie questo ovviamente non vuol dire Sansevero che viene qui e ci prende sotto gamba tutt'altro però ecco la mia speranza è quella Jacopo contro la corazzata perché altrimenti appunto è una corazzata quindi è durissimo ammiro il tuo ottimismo di base lo sono sono un pessimista però tendente molto in più all'ottimismo ecco ma che dire più classico di che dire arriva una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato in sei quest'anno sarà dura salvarsi squadra costruita male allenatore indegno viene da citare Ken Brockman parole dure parole dure parole dure il collega il collega Ken Brockman ovviamente ci sta la rabbia insomma mi sembra la cosa più normale del mondo essere arrabbiato in questo momento vuol dire che si chiamano la maglia e il pubblico è stato anche il pubblico è stato di una maturità che personalmente si può riscontrare in poche altre piazze ci sta tutta la rabbia per il momento questo c'è per il momento e penso che sarà un momento anche lungo data la natura triennale del contratto di coach Domizioli e di questo come primo sparato ora dico una cosa positiva di questi tempi fare un triennale non è per nulla scontato assolutamente apprezzo questo tipo di lungibilanza a prescindere poi dalle valutazioni che si possono fare sul coach finora e sulle valutazioni che si possono fare su di lui come GM perché secondo me è lì che si deve andare un attimo a fremere Michele partita contro Sansevero sulla carta appunto sembra impossibile ripeto forse ecco già hanno fatto fatica con Senigallia che comunque è una squadra di tutto rispetto davvero si può sperare in una sorta di momento un po' di appagamento dai punti si poi ricordando anche l'anno scorso che è una partita Sansevero una partita vincendo in pratica sempre poi ecco a fine della vince di un punto si 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 ecco arrivare a vincere sempre poi perdere alla fine non conviene quindi può essere pure che vengono in maniera molto più soft perché appunto anche per togliersi di dosso questa il fatto di essere perfetti così 9-0 10-0 poi inizia a farsi sentire tra virgolette è una sorta di scimmia al contrario che vinci sempre e devi perderla prima o poi conviene sempre perderla prima ma chi lo sa potrebbe anche perdere domenica a terra ovvio la squadra è lunghissima sono dieci giocatori almeno di serie B per non dire a due nessuno mi lanta di tornare in serie A se sono tre statiche le dichiarazioni societarie sono sempre in quella direzione forse mettendo troppi carboni ardenti sotto il parquet Nicola Arletti che salutiamo l'ha detto stampa del campo infatti preciso con Nicola che parlavo io come tifoso e come teramano che segue il basket perché poi lui l'ha messa in una situazione molto folkloristica però che queste dichiarazioni vengono fatte è vero sì sì no ma infatti appunto anzi nessuno sostiene il contrario sono dette scritte riportate sia da giornali che da televisioni quindi la società si è dichiarato questo non è come dire non si smentisce anzi tutt'altro lo riportiamo allora siamo praticamente al secondo time out quindi andiamo nella seconda fascia pubblicitaria poi torniamo qui per parlare di Eurolega ed NBA a tra poco bene eccoci qui terza parte di Super Basket allora come abbiamo accennato prima di andare in pubblicità di essere richiamati in panchina dagli arbitri entriamo in campo andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda l'Eurolega che anche qui si giocava la decima giornata tra l'altro c'era il big match a Madrid tra Real e Zesca che è stato vinto tra l'altro dai russi 88 a 93 e Milano invece che ha perso nell'Atene del basket io la cito sempre questa tua frase perché è bellissima stiamo parlando ovviamente di Kaunas Milano che perde Atene non avrebbe il basket sì sì Atene ce l'ha però effettivamente il verde però come dire se Atene quella scuola proprio quell'aria da ma assolutamente Platone è così Aristotele è così per me nel basket assolutamente se per la filosofia è la Grecia nella palacanesto ma è Lituania ed è quello appunto dicevamo Milano che perde 83 a 78 una sconfitta se non sbaglio è la seconda dopo il K.O. di Barcellona avevano due trasferte qua Jacopo le scarpette rosse campi poi assolutamente non facili sì che no tra l'altro il Barça che sta facendo una stagione ottava in questo momento quindi è una fase di risalita dopo anni abbastanza deludenti e poi ecco Kaunas lo Zagiris è sempre la solita squadra cioè squadra che non ha le superstar però non ha queste velleità di vittoria ma nessuno la vuole incontrare esatto e forse è quello il suo punto di forza perché gioca sempre molto leggera no poi sono creano talenti con una facilità clamorosa e hanno come detto questa filosofia di gioco che tuttora resta di difficile lettura per per chiunque anche in Eurolega non solo per noi a livello di nazionale Milano comunque deve mantenere la calma ci stava in questo momento un attimo di riflessione se saprà rialzarsi e tornare sui ritmi di inizio anno potrà togliersi delle soddisfazioni Michele faccio la domanda di Rito essendo la tua prima apparizione qui da noi ovviamente per quanto riguarda l'Eurolega ecco chi vedi più favorito in questo momento la classifica dice il primo il Fener di coach Obradovic poi ecco classica favorita esatto classica favorita poi ovviamente anche ecco il partitone che ci è uscito a Madrid insomma il Cesca è sempre tanta roba vincere tanta roba vincere Madrid il nostro Huckett appunto con il Cesca reale con il nostro Carroll esatto che comunque ha sempre il suo a base a nostalgia no no su questo anch'io dai dai su questo si può arrivare quindi la nostalgia è meglio pubalgia no quello va a sanzi no il contrario tranne nel Teramo Basket meglio la nostalgia tra l'altro il Fener tornando all'Eurolega ha vinto 65-84 a Barcellona quindi anche lì va a vincere assolutamente sì vabbè quindi diciamo a parte le classiche vediamo se lo Zalgiris comunque Milano secondo me è sicuro farà dovrebbe fare i playoff penso a questo punto è da top sì sì da prime 8 con Mike James insomma appunto a che fare poco con questo continente era più forse stava meglio di là concordo e vabbè Zalgiris un'ottima ottima squadra con gli asichieri giusti allenatori insomma la squadra gira bene e penso sì le altre appunto come abbiamo detto Real, Seska, Fener anche l'Anadolu che comunque sta facendo una buona stagione bene o male sono queste sono quelle sì anche perché il Maccabi è un po' sceso c'è qualche greca che può dare fastidio diciamo l'Olympiakos di turno che sta sempre lì comunque ci sono sempre zitti zitti tutta volta tu avevi detto l'Olympiakos ti giri tranquilli che sono finiti sono finiti bravo questa è la frase no ma ormai l'ultimo anno spanuli sono rimasto al pano esatto allora andiamo quindi a vedere adesso ci illustriamo gli occhi con la top ten per quanto riguarda la decima giornata dell'Orolet che poi si va nell'NBA a tra poco la cosa è una cosa è una cosa under 2.5 a percola l'ho Iliard in l'ho 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 Midsov Skipsi it, Kosminskas Baseline, reverse throwdown Give me some of that Mendoza, Kosminskas Oh, hi towards Lidate From Spanunis, he was looking to help his teammate Hit that 30 point mark And getting back And trumping that previous magic moment Was Papa Nicolau Oh, beautiful play Oh, oh, Turska Dinas And I think he made Aaron White Apologize after that 86-78 right now Turska Moscow up by 8 Looking to get a basket off their timeout Oh, Hines, oh, Hines Oh, my Hines Going up over the top of Gustavo Ione Wilbekin, top of the key Trying to find space Oh, my goodness What a pass by Wilbekin And Black Goes out of nowhere Well, I thought Wilbekin Had run out of options And Black says Give it to me Westerman Frenchman Offering the low post Drops there Baseline Up the back Ball Brendan Davies Throws down the house Ali Mohamed Witch the pass This time to Luverne He'll attack the rim And gets a shot away But can't quite get it to drop Serafin Rebound To Jotel Oh, what a block Gigi Datome Getting back For the monster block To deny Pere Oriola Man, Madrid's got a quick shot If they can get off To Basso From Thiem It's on the mark It's on line And it draws it And Basso gets the roll Are you kidding me? I haven't seen a shot like that From three quarters They're going to look at it But I can tell you From here Good fellas Don't look at it For too long That's money Unbelievable You don't see Very many shots From that far down the court Hit back For the rim Roll around And drop it Bene, questi erano gli highlights La top ten Per quanto riguarda l'Eurolega Adesso Argentonic è pronto Prima classe Perdiamo il flight Virgin Airlines E siamo pronti Per andare negli States Quindi andiamo a vedere Cosa è successo Nell'NBA Io partirei Dalla partita Tra Toronto E Denver Questo Dice Che lei Dice Esatto Questa tra l'altro È una partita È una clip Più che altro Dedicata a Jokic Che ha fatto davvero Che ha fatto davvero una prestazione Spettacolare Denver che ha vinto Contro Toronto Io adesso Andiamo a vedere Anche le immagini La cosa che mi fa impazzire Di Jokic Ma in generale Di questi giocatori qui Che tu li vedi Non li dai davvero Un euro Perché tu dici Vabbè ma questo Non si alza la terra Fisico poi Non è che dici Sai Fisico incredibile Però vede tutto Prima degli altri E questa secondo me È la cosiddetta legacy Come si dice L'eredità Che ha dato Un certo Arvidas Sabonis Secondo me Il più grande Io da Tavù balgico Ti rispondo Che è forse Più quella di Dirk Nowitzki Anche Nowitzki Sì ci sta Però diciamo Il playmaker Di due metri Adesso non mi ricordo io Quanto è Però ecco Era più che altro Per andarti contro No 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 Ma è giusto Mi piace Ricordiamo peraltro Che a Denver Manca Will Barton Certo E sicuramente Quello di Di maggior talento Per equazione Fisica Si sia fatto male Anche di essere In day to day Lui parla per fan Le cosiddette Pepite del Colorado C'è Denver Nuggets Che hanno fatto Come si può dire Il colpaccio Andano da vincere Sì Contro una squadra Che si mette in campo Contemporaneamente Leonard Siacca Neibach E questi allargano le braccia Hanno chiuso tutta l'area Esatto Questa come prima osservazione Hanno qualcosa di veramente speciale In Canada L'ha detto anche Clay Thompson Che è uno Che di questi speciali Se ne intende E non devono avere paura di nessuno In quanto hanno un MVP delle Finals Che ha marcato Lebron Hanno uno dell'esperienza infinita di Baca Hanno uno che se riesce ad alzare I suoi livelli Playoff È comunque uno Starke e Lauri Poi tanti giovani interessanti Hanno un hobby Lo stesso Siacam Siacam E anche Il Fred Van Vliet La seconda unit Toronto è stata per due anni La migliore Hanno balance una Schiava una certa esperienza Senza dimenticare poi L'apporto che ti può dare Un Anche un Danny Green Un altro che Qualcosina ha vinto In carriera avrebbe visto E vinto Esatto Per quanto riguarda invece Denver Veramente un grandissimo front office Che ha saputo ricostruire Dalle tante scelte sbagliate Di Nelson Dalla trade Di Carmelo Che comunque questi grandi frutti Non li ha portati E ha saputo costruire Con la scelta più o meno alta Di Murray Molti avrebbero voluto sceglierlo Dalla scoperta di Jokic Ma anche dagli stessi Harris e Barton Questi sono tutti giocatori Da draft E questo pesa tantissimo Perché dopo tanto tempo Stanno arrivando i risultati E la pesca in free agency Molto moderata Ponderata Di Millsap Comunque sta portando a qualcosa Loro per me Sono un giocatore Da essere con Denver Rivelazione quindi Ti chiedo Michele Fino a qui Denver Cioè insomma Sì Poi ovvio Forse il solito problema Di Denver Manca Il go to guy Forse quello vero Che potrebbe essere Anche Jamal Murray Insomma Vediamo appunto La crescita Che avrà Dice che è quello vero Perché lo dico a fantasy Chi è? Jamal Jamal No sì sì Ma potrebbe essere lui Che un po' è stato Il problema di Denver Post Carmelo Anche dalla trade Appunto uscita fuori Quando arrivo a Gallinari Che doveva essere un po' Lui il go to guy Forse adesso lo sta Diventando appunto Ai Clippers Se fossero i Clippers 3-4 anni prima L'avremmo visto In una contender Ha scelto Di essere il primo Violino sempre Va rispettata la nostra scelta Parlando di Un attimo Per concludere poi Perché stiamo vedendo Una serie di assist Ne ha dati 15 Tu dici Ah sì È Steph Curry Ah sì È Chris Polano È Jokic Ok Non è la prima volta Che smazza questi numeri E che lo fa Veramente con bellezza Poi alza queste parabole Certo 40 secondi sul cronometro È un giocatore È uno dei top europei Forse il top europeo In una lega Che ne ha tanti Che riesce a reggere L'urto fisico Di una belva Come Ibaka Ce ne vuole Next Next big thing Concordo Concordo anch'io Sul Joker Come viene soprannominato Jokic Allora passiamo Da un europeo Da un grande europeo Come Jokic Passiamo a un altro europeo Che in questo caso Veste la maglia De Dallas Mavericks Stiamo parlando Della partita Tra Dallas E i Clippers Era la prima Tra l'altro Di DeAndre Jordan Che lo vedete qui Salutare tutti i suoi Ex compagni di squadra Ma ancora una volta Montreese Ancora una volta Però dicevo Gran partita Di un tale 19enne Che questo Insomma Questo Doncic Che davvero sta facendo Famille Parto da Da Michele Anche qui Dalla Spure Bella squadretta Insomma Sta facendo bene Sta anche dando fastidio A molte squadre Si sta togliendo Anche delle belle soddisfazioni Sì sì Assolutamente Ovvio La scelta Appunto La trade Fatta con Atlanta Per Doncic Al posto di 3 Young Ha fruttato Sta fruttando Hanno lasciato fuori Un'altra top 5 Per farla Però comunque Ovvio Strano che Doncic Sia finito Al draft Fino a Young Perché in Europa Ha vinto tutto Certo Tutto Mbp di Eurolega Mbp di Asebe Vabbè Però Hayton e Bailey Lo sai Sono lunghi Sono americani Sia americano Quindi ovviamente Doveva scegliere Bisognava Prendere Hayton Anche perché A Phoenix Insomma Forse Doncic E Booker Meglio Averne Però Ecco Doncic Sta facendo vedere Forse Ecco Come dicevamo L'altro giorno Petrovic Non lo so Ma infatti Petrovic Che non è Ma anche qui Il nome Il nome è stato fatto Beh L'accostamento Ma soprattutto Anche quanto Fino adesso Lui ha vinto Che poi Vai a vedere l'età Dici Ah ok È un ragazzo Oppure È un giocatore Di 30 anni No È un ragazzino Di 19 La cosa assurda È che lui Ha già giocato Partite con il triplo Della pressione Che è adesso Esatto Ed è arrivato adesso Ma infatti Io penso che queste partite Per Doncic Siamo quasi Degli allenamenti E non voglio Che si perde È paragonata Una finale Di Euroleco Di un europeo Non si annulla A livello di pressione Si vede dal modo Di gioco Una parola Sul tuo Sul tuo pupillo De Andre De Andre Jordan Io una cosa che vedo Lo vedo molto contento Tra l'altro Sì Anche lui Con ritardo Nel senso che A Dallas Doveva andarci 3-4 anni fa Con Carlyle Ve lo cercava In giro in macchina Per Los Angeles Invece Griffin e Paul L'avevano chiuso In casa Per convincerlo A rifirmare È stata una storia Molto simpatica Conclusa Se alla fine Con la presa Di Carlyle Perché alla fine Carlyle vince Questo lo sappiamo E volevo spendere Più che su di lui Delle parole Su Dallas Sempre per un ottimo Certo Per un ottimo Front office Che non ha mai Preso in considerazione L'idea di tancare Non che sia poco rispettabile Farlo Ma che ha Continuato a spingere Anche con all in Di dubbia riuscita Come per esempio Viene in mente Deron Williams Viene in mente Rondo Viene in mente Tanta gente presa Con soldi di Novitski Che per Per ora la causa Ha lasciato sul tavolo E ora si ritrovano con Poi ci vuole anche Fortuna la lotta Lotteria Perché Danny Smith E Donchich Devi prenderli altri Altrimenti non li prende Però insomma Vuol dire anche che tu Programmi bene Quello è il discorso Se hai riuscito a scaricarti Un contratto pesante Come quello di Parsons Per darlo poi ad Andre Jordan Perché sicuramente Fattura di più Rimanendo sempre con la filosofia di Gio Rimanendo sempre Bravissimo Con il lungo Che come è l'area Che comunque Non va a tirare da tre Come si vede in giro Adesso Che ormai è diventata Deve fare il Bini Della situazione Non lo rendiamo Ci siamo Non lo rendiamo Scherzo Stile quasi Come dice Michele Stile quasi europeo Sì Mentalità europea Possiamo dire Questo ce l'ha Anche per un discorso Di fedelissi Perché l'altro giorno Vedevo gli Eli Ho scoperto Che c'è ancora Devin Harris A tirare per Carly Ma basta Lui e Barea Continuano a fare canestro Dopo tutti questi anni Sempre nello stesso modo E quindi Anche un Novitsky Che proprio Dice ragazzi Dattemi anche Non lo so Un hamburger È al minimo salariale È al minimo salariale Lui Novitsky Nelle cose fuori dal mondo Poi comunque Anche Finney Smith Un giovane interessante Lo stesso Abbiamo detto Finney Smith Junior Donchic Senza stare qui a nominarli Mettius Altro veterano Barnes Un altro contratto Che hai pagato bene Per quello che ti rende Poi Barnes Che è un campione Miei Comunque Poi ha spadellato Nella finale dopo Ma quella prima L'ha vinta da protagonista Viene da un sistema Esatto Come il Golden State Ecco Da tifoso di Chicago Ti dico Avercelo Un front office Come quello di Dallas E qua dobbiamo tornare però Anche perché Chicago Non l'ho messa E scaletta Colpa mia Ma diciamolo Esonerato Fred Hoiberg Ah ecco Quindi salta L'allenatore dei Bulls Salta l'allenatore dei Bulls Che è Ora Dei tanti momenti In cui sarebbe stato Da cacciare Fred Hoiberg Tu mi ci hanno preso Quello proprio Le tante squadre sbagliate Che gli hai dato Perché la sua Iowa State Era un run and gun È benissimo da vedere Insomma Di tutto questo Poi di Anator on the way Quanto di più lontano Dal suo gioco La trade di Butler Che comincia a pagare Ora che ha una squadra Per fare il suo gioco Gli si rompono Dan Portis e Markkanen Ha un record negativo Lo tagli Ora per carità Non l'ho mai visto Per le parole Di chi ha avuto Come un allenatore Capace di tenere i big E i Bulls Che si ha adesso L'anno prossimo Punta un nome grosso In free agency E dovesse ricrearsi La situazione di Butler Sì la situazione di Butler Sarebbe un problema A questo punto Siamo una delle peggiori difese Della Lega Storicamente a Chicago Questo non si vede Esatto Per difendere oggi Basta veramente poco Sì Ma veramente veramente poco Nessuno difende più davvero Però Certo Poi c'è un limite a tutto Perdi tante partite per questo Però ecco Dei tanti momenti In cui lo potevi cacciare Magari non quello Dove devi giocare Con tutto il rispetto Con Justin Holiday Partita che si è giocata Invece nella notte Quella tra i Minnesota Timberwolves E il Houston Rockets Vinta 103 a 91 Dai lupi Del Minnesota Anche qui abbiamo Le immagini Michele anche qui Risultato Come dire A sorpresa Strano Sì un risultato strano Houston Houston paga Avere Carmelo in squadra Non ce l'hanno più Pagano lo spettro Il fantasma di Carmelo Anthony Paga ancora lo spettro Carmelo Anthony La scelta appunto Di lasciar perdere Ora ricomincerà Questa buffonata Di lui che si mette la felpa E tira da solo Per non pensare al divorzio Poi hanno pagato appunto Lasciarono andar via Trevorarizza Che era fondamentale Nel sistema di gioco Secondo gli insider Di Bleacher Report Top of the list Per tante contender Trevorarizza Quindi figurati Ti sei lasciato perdere Anche quello che dava equilibrio In una squadra che appunto Di quello peccava Sì di quello peccava Gordon non sta ripetendo La stagione dell'anno scorso Poll ha avuto degli acciacchi Come ormai Di accade ogni anno C'è il Barba C'è il Barba un po' solo James Sardin ovviamente Sì a pagare C'è P.J. Tiger Il Lebro Stopper Monte Granaro E poi vabbè Comunque sì La squadra Grande college Monte Granaro È un college È più che rispettabile Sta pagando un po' Carmelo Che è così È la scelta Di averlo preso Speriamo che non viene I Lakers Però è bene così Parlando invece Jim Boylan Comunque il nuovo allenatore Dei Busch Che era il secondo Di Hoiberg E quindi diamo Una mossa molto Asta Zichella Parlando esatto Di parallelismi Tra Teramo Calcio E Chicago Bull Le corna ci sono Eh però non volevo dire No allora Invece Due parole anche su Minnesota Perché abbiamo visto Tra l'altro un Dario Saric Come si dice Clutch C'è nel senso decisivo Sì si ha messo Le bombe belle per tanti Quindi Insomma anche qui Questo è il famoso scambio Anche Butler Eccetera Va coinvolto Sia fila del Feminesota Perché Saric Pare che abbia trovato Anche qui una sorta di dimensione Questa penso sia Proprio la definizione Del sistema trade NBA Ne hanno beneficiato entrambe La situazione Ispirabile a Minnesota A Philadelphia Non serviva l'equilibrio Che ti possono garantire Quei due Almeno serviva Qualcosa di diverso E Tibodo Ha trovato Un compromesso Con se stesso Diciamo Perché Due Due contratti Comunque pesanti Come quelli di Saric E Covington Ti offrono Una gran difesa Questo si vede Nei rating Il rating di Minnesota Che era incredibilmente Al ventottesimo posto Con Tibodo Cosa assurda Ora mi sembra sia Top 5 Ecco E già cambia il mondo Più puoi aprire il campo Perché prima Tra Rose Tig Butler Towns Wiggins Non ce n'era uno Che garantiva Continuità da tre Ora con Saric e Covington Ai scarichi fissi Anche Tig È cresciuto molto in questo Rose Sta facendo una stagione A percentuali migliori Di Kerti Prendere con le pinze Perché non vuol dire nulla Però insomma Da delle garanzie Quindi anche Minni Ora è di nuovo pericolosa Io continuo ad avere Seri dubbi Sulla mentalità Dei due giocatori Che dovrebbero Tirare avanti la squadra Però hanno ancora Un po' di tempo Per crescere Occhio a Minnesota Dura un po' da troppo Però insomma Vediamo I playoff Possono farli Siamo in fase di chiusura Io ho l'unica partita Che voglio Insomma Di cui voglio Parlare Per chiudere Anche qui poi andremo a vedere Gli highlights Come sempre Della nottata Si giocavano Brooklyn Nets Cleveland Ha vinto Cleveland Di 2 97-99 Ragazzi Secondo me questa Se la facevano vedere In serie A2 Cioè Se è una partita di A2 Secondo me nessuno Si sarebbe sorpreso Assolutamente Livello Che tra l'altro Però questo è un flash Secondo me Il livello è sceso Tantissimo Cioè È alto ovviamente Però ricordandomi Anche l'NBA Di qualche anno fa Non che dico E meglio o peggio Adesso il Doc Già mi sta guardando male Momento nostalgia No però nel senso Io A parte gli scherzi Mi ricordavo Forse il talento Era più distribuito Mi ricordavo che Ogni squadra però Aveva un top player Cioè anche per dire I Denver Nuggets Che non vincevano una partita Io ai tempi Mi ricordo avevano Il Calif Abdurraouf E Mutombo Che buttali via Insomma C'era Meglio Giammar Marri Che Nicola Jock Meglio Giammarri Che Nicola Jock Però ecco Nel senso Ci sono partite Oggettivamente Più che altro Sono franchigia Che in questo momento Secondo me Jacopo Non sono proprio Sì hanno il nome Però a livello Proprio di tecnica Non sono sulla mappa Ti abbrugliano ad Angelo Seconda scelta assoluta Di quelli lì Non si vede Di quelli lì S'ha pagata Con Mozco Questo è un argomento È un argomento Che Composco per Deng Quindi figuriamoci Però insomma Poi è un discorso Che vorrei anche Appropondire meglio Ma ne avremo Ne avremo occasione Allora siamo davvero Ai saluti finali Io ci tengo Pietro non ha mancato Di ricordarci Sì sì ovvio Alla Mazzarri Alla Mazzarri Ce l'ha fatto Esatto Vabbè ma Pietro Ovviamente Numero uno In regia Allora Io saluto E ringrazio di cuore Michele Di Pietro Grazie a voi Grazie a voi Grazie mille Avremo modo ovviamente Di rivederci Speriamo Speriamo Senz'altro Un saluto dal doc Ciao È stato sempre un piacere Torneremo Torneremo E occhio allo speciale natalizio E occhio esatto Allo speciale natalizio Allora siamo davvero In chiusura Adesso ci andiamo a vedere Come sempre Gli E-likes NBA Della notte Superbasket Torna come sempre Martedì prossimo Alle ore 21 Buonanotte a tutti Ciao 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 Ciao